La storia di Bologna Fiere al Padiglione 36. Vogliamo, fatemelo dire, in questi tre giorni, viva per voi e con voi, un grande e nuovo Urban Summer Festival che da quest'anno e da questa prima volta, questa è una notizia che do in anteprima, Bologna Fiere ha già deciso che ci sia ogni anno, perché ci meritiamo un grande e straordinario appuntamento di giovani, di sport e di musica qui a Bologna. E vogliamo che ogni anno Bologna sia la città del cristal e della musica, quindi grazie. Grazie innanzitutto a tutti gli straordinari giovani atleti che sono pronti a partire, 160 da tutto il mondo, tante medaglie d'oro a Max Games, campionessimi ognuno della loro disciplina. Ringrazio e un saluto a tutte le istituzioni e le qualità, la città e della regione Milano-Romani, al direttore del lente italiano, Andrea Vanni, a tutti gli operatori, soprattutto di Bologna Fiere, agli amici di studio logo, ai nostri partner, agli organizzatori di disciplina sportiva e a tutte le imprese che lavorano da giorno e notte hanno costruito questa nuova bellissima città di Giangelo.